non sarebbe da lui. Detto questo, noi eravamo qui in aula qualche mese fa e l'assessore Tabacci ci ha detto che non esiste alcun piano B. Sto chiedendo di mettere in vendita tramite bando le azioni di Serravalle, ci credo fortemente, ma non esiste alcun piano B. Invece ad oggi pare che il piano B esista. Io mi chiedo se è un caso che il fondo F2I abbia appena venduto delle partecipazioni e abbia appena incassato 35 milioni di euro, forse qualche settimana prima di doverne sborsare altri. L'assessore Tabacci sa bene sicuramente a cosa mi riferisco. Devo dire che i giornali continuano a parlare di incontri della Giunta o di persone, comunque vicine al sindaco con il fondo di Gamberale. L'onorevole Tabacci addirittura nella sua rassegna stampa inserisce questi articoli, quindi credo che se l'assessore ritiene questi articoli fondanti, giustamente li inserisce nella sua rassegna stampa personale, perché altrimenti io nella mia rassegna stampa non inserirei mai articoli di giornale che riportano cose non vere e tendenziose. Poi la vita Assessore Tabacci è strana, perché tra qualche tempo vedremo quello che lei ha preparato e ci renderemo conto se siamo noi dei matti oggi nel dire che probabilmente c'è già un piano prestabilito secondo il quale venderete Serravalle insieme a una parte di azioni di SEA. Oppure, evidentemente, qualcuno ci dirà tra qualche settimana che avevate ragione. Mi riferisco magari a qualche collega di maggioranza che sta vivendo questa situazione non da protagonista come lei, Assessore, neanche come il sindaco, anzi magari si chiede perché l'opposizione continua a punzecchiare dicendo che venderete SEA e Serravalle insieme. Allora questo probabilmente è il piano B, visto che da parte sua e né da parte del sindaco è arrivata alcuna smentita su quello che noi stavamo sottolineando. Poi potrei aggiungere anche, Assessore, onorevole Tabacci, che ci potrebbero essere magari nelle prossime settimane qualche convergenza anche con la banda larga, ma sono certo che lei sorriderà anche su questo, ma poi il tempo sarà galantuomo e vedremo queste affermazioni così cattive che stiamo proponendo in quest'Aula, se saranno veritiere o meno. Io chiudo ricordando per l'ennesima volta, come ha fatto il collega Decorato, che la provincia di Milano le ha fatto un assist nel cambiare lo statuto della Milano-Serravalle, perché la provincia di Milano avrebbe tranquillamente potuto non cambiare lo statuto o avrebbe potuto cambiare lo statuto e mettere in vendita un pacchetto azionario di proprietà della provincia. Allora mi aspettavo che l'Assessore usasse la stessa vemenza con il quale ha detto alla provincia di scendere dal cavallo della Serravalle, magari lo stesso cuore, la stessa passione nel ringraziare la giunta Podestà e il presidente della provincia di Milano. Poi vedremo quello che succede in quest'Aula. Io voglio solo dire al capogruppo del PD, Carmela Rozza, che non è con noi che deve parlare, non è a noi che deve spiegare il perché il Comune vuole mettere in vendita Serravalle, ma avrebbe probabilmente dovuto farla con il collega Caputo del Consiglio Provinciale che non ha votato la delibera del cambio di statuto, avrebbe dovuto farla con i colleghi di rifondazione comunista della provincia di Milano che non hanno votato, anzi hanno votato contro al cambio di statuto, avrebbe dovuto farlo col collega in provincia del consigliere Grassi, anche lui non ha partecipato al voto sul cambio di statuto della Serravalle. Allora oggi mi sarei aspettato, oltre all'intervento del capogruppo del PD, l'intervento del collega Grassi che portava avanti la sua posizione in linea con quanto fatto in provincia, l'intervento anche del Presidente del Consiglio Comunale Rizzo che, come ricordavo prima, è pronto ogni tanto a togliere la casacca da Presidente, inserire quella da consigliere, scendere tra i banchi e fare le sue considerazioni politiche. Però forse oggi non è ancora il tempo, oggi è il tempo invece del popolo arancione, è il tempo in cui il capogruppo del PD parla a nome di tutta la maggioranza e noi siamo qui per l'ennesima volta a chiedere chiarimenti, a sapere se esiste questo dossier, se esistono queste slide, in particolare, Assessore, se esiste la slide numero 24 del documento che sta girando nel fondo F2I fatto a 4, 6, 8 mani, non so quante mani, lei ne ha solo due di mani, quindi non è ovviamente tutta colpa sua. Però con il principio di trasparenza ci aspettavamo che l'Assessore venisse in aula dicendo sì, io ho incontrato il fondo gamberale, ho incontrato ovviamente al di fuori del bando aperto, perché la legge ovviamente mi impone di non incontrare nessuno durante la fase in cui il bando è aperto e magari raccontarci anche quello che vi siete detti. Però so di chiedere troppo, Assessore, però ognuno di noi ha una coscienza, ma soprattutto i colleghi di maggioranza tra qualche settimana probabilmente ci verranno a chiedere il perché oggi ipotizzavamo la vendita di Serravalle e SEA insieme, di perché ho parlato di banda larga, di perché ho parlato della slide numero 24 di questo dossier. Poi il tempo sarà galantuomo. Grazie.